Io non me la sento di lasciare questo patrimonio che abbiamo creato, abbiamo portato più di 5.000 persone allo stadio, bambini che piangevano per l'Agrega, se non me la sento di lasciare tutto questo e voglio fare un progetto, se tutte le componenti ci saranno, un progetto vincente che possa portare l'Agrega a salazzare un po' la sticella. Però lei ribadisce la necessità di intervenire per togliere, per cessare con la vergogna in cui si trova allo stadio? Assolutamente sì, anche perché ci sono delle regole federali. Mettiamo caso, noi vinciamo il campionato, non abbiamo il stadio adeguato per poter fare il professionismo, per cui saremmo costretti ad andare a Seracusa e non mi sembra che sia il massimo. Caltanissette e Favara insegnano che si può attingere dai bandi per avere una struttura gioiello. Assolutamente sì, ma non solo Caltanissette e Favara, ma tantissimi comuni della Sicilia. Se ogni tanto si pensasse meno a fare qualche evento musicale, che poi alla fin fine non porta niente di buono, però non porta neanche cose negative, però è come l'acqua, non fa né bene né male, e se pensasse ad attrarre i finanziamenti per rilanciare l'esporto in generale in questa provincia, credo che si farebbe una cosa positiva. Dunque ci sono i presupposti che possa nascere un'Akragas competitiva anche per la Serie D? Assolutamente sì. Noi faremo una squadra che dovrà recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie D. Assolutamente sì.